e gli elementi che si sono scatenati oggi, siamo abituati a combattere anche col clima si sospetta un complotto, qualcuno ha remato contro comunque la partecipazione c'è e la cosa ci conforta poi come è solito questo circolo, essendoci problematiche di parcheggio molto spesso il pubblico si ripingua nel corso della serata per cui insomma siamo ottimisti questo è un nuovo appuntamento del laboratorio di politica del nostro circolo che ormai dal 2013 caratterizza l'approfondimento politico del Baspartout abbiamo parlato nel corso di questi tre anni di svariati temi che poi sono diventati all'orino del giorno ben prima che questi poi facessero parte della cogenza politica per cui insomma ci freggiamo della possibilità e dell'opportunità di avere degli approfondimenti di spessore con i nostri ospiti e stasera abbiamo la possibilità di chiacchierare con l'esimio professor Cammelli che abbiamo sopperti da Ermanno in qualche maniera corteggiato da tempo insomma erano molti mesi che si aspettava la possibilità di scorrere con voi per cui insomma io non tolgo altro tempo alla discussione e alla serata vi ringrazio e con la parola al professore grazie a tutti grazie